C'è un'unica soluzione per tamponare il problema della carenza idrica ad Ortona, quella della chiusura programmata notturna anche in centro e in tutto il territorio, per consentire di riempire il serbatoio Croce di Bavi a servizio di tutte le zone penalizzate in questi giorni. È la soluzione emersa dalla riunione urgente, convocata per oggi dal sindaco Leo Castiglione con Sasi e ACA, le due società che gestiscono il servizio idrico ad Ortona. Presenti all'incontro, online, Gianfranco Basterebbe, presidente della Sasi, il direttore dell'area tecnica Pio di Polito, per l'ACA il direttore Marco Santedicola e del dirigente Lorenzo Livello. Presente anche il vice sindaco Cristiana Canusa. Dopo l'appello al prefetto, alla prefettura che si è subito attivata, infatti c'è stato un incontro in cui sono emerse tutte le criticità sia a livello di comunicazione alla popolazione nel momento della grande emergenza e sia poi nell'erogazione stessa dell'acqua che purtroppo tarda ancora ad arrivare in alcune zone. Quindi questo incontro, ho ritenuto necessario organizzare questo incontro con la presenza di tutte e due le società. La situazione si è fatta sempre più critica in questi giorni, disagi nelle zone di San Pietro, San Marco, Bavi, Villa Magna, ripari di Giobbe, la zona industriale. Al centro del problema è il serbatoio Croce di Bavi, nel quale l'ACA immette l'acqua e la gestione invece della Sasi. L'ACA ha fatto presente che l'acqua viene immessa ma buona parte di quell'acqua viene utilizzata da numerosi allacci di privati e quindi non si riesce a riempire il serbatoio. Il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe ha ricordato che si sta lavorando all'ottimizzazione delle reti di distribuzione, alla ricerca perdita, alle condotte. Ci sono lavori previsti per la rete idrica ma al momento non ci sono soluzioni possibili, immediate. Una situazione di criticità che va avanti da giorni, più volte denunciata dal sindacolo Castiglione. I cittadini in piena estate, in piena stagione turistica, non possono vivere questa situazione che ha svantaggio soprattutto della città, oltre che delle famiglie che hanno bambini, anziani, ma ne perde l'immagine della città, una città che punta sul turismo e che poi invece durante l'estate si ritrova in questa situazione. Purtroppo la situazione preoccupante ed anche dalla riunione è emersa la impossibilità da parte della Sasi di intervenire per mancanza di fondi sia sul serbatoio di Croce di Bavi sia sulla zona industriale, ha detto Castiglione. Abbiamo anche proposto di partecipare come comune, ma non sembra una via percorribile. Il modo più veloce e pratico di ovviare a questi disagi è la chiusura programmata anche per il centro cittadino, un piccolo sacrificio che tutta la comunità sarà chiamata a fare per consentire una ridistribuzione dell'acqua.